Ecco la sedia modello Europa. Europa è una sedia da soggiorno, per carità si può usare anche in cucina in open space, ma è una sedia importante per dimensioni, anche peso in chilogrammi per disegno e quindi più adatta ad un soggiorno o ad un open space dove c'è magari un tavolo importante. Mi accomodo subito perché faccio subito un ragionamento sulle diverse altezze. Allora, è disponibile in due versioni in termini di altezza, la cosiddetta media, che ha uno schienale altezza 88 e la cosiddetta alta, che è questa che sto provando adesso, che ha lo schienale alto 96 cm. Devo dire, è estremamente comoda, appoggio perfettamente, io sono un 1,85, appoggio perfettamente le spalle. Una sedia rivestita snella per spessori, ma piuttosto accogliente per questa imbottitura ulteriore che è stata apposta sia sulla seduta che sullo schienale, poi di più sulle versioni estetiche che si possono prevedere. Mi sembra non profondissima come seduta, ho la percezione che ha altre sedie magari di appoggiare maggiormente la parte inferiore della coscia, quindi mi sembra di sporgere un attimo rispetto a altre sedie, ma devo dire è molto comoda, accogliente. Non è molto elastica, è una sedia, diciamo, strutturalmente molto ben costruita. Altre sedie pur ben costruite hanno, quando magari ci si muove sulla sedia, una maggiore elasticità. Questa è veramente molto statica nel senso buono del termine. Dicevamo, le diverse versioni che abbiamo dal punto di vista estetico, prima abbiamo citato le diverse altezze, c'è la sedia senza, qui vediamo quella con il cuscino aggiuntivo, c'è poi la stessa versione senza, la stessa sedia senza questo cuscino aggiuntivo, completamente liscia, liscia con un profilo perimetrale bicolore che è meramente una caratterizzazione estetica, o la stessa versione con lo schinale che viene trapuntato con un decoro a rombi. Quindi in quel caso, diciamo, quella col bordino e il decoro a rombi e la trapuntatura a rombi sono mere caratterizzazioni estetiche. Mentre invece tra quella, tra virgolette, base e quella col cuscinetto in appoggio, c'è una differenza e percezione in termini di imbottitura e tra virgolette di comfort. In termini materiali, va bene, la sedia è completamente rivestita, si può fare in tessuto, in similpelle, in velluto e come in questo caso in pelle naturale. In particolare qui vediamo un Nabuc grigio molto bello, non solo a livello estetico perché è un po' nuvolato, ma anche a livello tattile rispetto ad altri Nabuc, anche più morbidi. Questo è un filo meno morbido a livello tattile e però mi dà una concreta sensazione di praticità anche nel tempo. Dicevamo, molto ben costruita, vediamo sotto. Diciamo, a parte la teletta made in Italy, una sedia ben costruita, in questo caso vediamo tutta la teletta che è stata zanchettata. Ricordiamoci che le sedie completamente rivestite non sono mai sfoderabili. sedia modello Europa.